Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, grazie di essere intervenuti. Questo è un momento di partenza, quindi io faccio una breve relazione che spiega il progetto e lo presenta inquadrandolo nella strategia che noi pensiamo possa avere un futuro, un seguito anche dopo gli sviluppi del progetto e caratterizzare la funzione di un'associazione dei comuni e delle province qual è Lega Autonomia, ma non solo naturalmente di Lega Autonomia. In coerenza con l'agenda europea 2020, il Governo italiano ha approvato la strategia italiana per la banda ultralarga con l'obiettivo di coprire, veniva ricordato, entro il 2020 appunto l'85% della popolazione con infrastrutture in grado di veicolare servizi a velocità pari e superiori a 100 megabyte per secondo. e garantire al contempo al 100% dei cittadini l'accesso alla rete internet ad almeno 30 megabyte per secondo. Prima del piano banda ultralarga avviato in questa legislatura a partire dal 2015, la connettività italiana era fortemente deficitaria, anche nella programmazione. Siamo al penultimo posto in Europa e abbiamo una previsione di investimenti privati largamente insufficienti per raggiungere gli obiettivi dell'agenda europea e per garantire ai cittadini e alle imprese infrastrutture adeguate. Si deve riconoscere che gli ultimi governi e anche l'azione, lo voglio dire, del sottosegretario Antonello Giacomelli hanno dato un impulso, uno scatto in avanti. Sono state stanziate risorse importanti e e tessuto un sistema di relazioni e di sensibilizzazione di cui poi questo progetto che abbiamo vinto tramite gara con i nostri partner è anche espressione. Il 3 agosto 2015 il Cipe, con la delibera 65, individua 4,9 miliardi di risorse nazionali e assegna al Ministero dello Sviluppo Economico i primi 2,2 miliardi da utilizzare per infrastrutturare le cosiddette aree bianche. Quindi è in quest'ottica che nasce il progetto Crescita Digitale in Comune progetto di Lega Autonomie di cui noi siamo capofila selezionato dal MISE che con il supporto operativo di Ancitel e LegaNet promuovendo una campagna di comunicazione e informazione intende favorire l'infrastrutturazione fisica del Paese cioè la costruzione del mezzo fisico che veicola le informazioni ad altissime velocità e capacità. Un progetto che prevede un piano d'azione definito chiaro negli intenti e che a partire dalla semplificazione del quadro normativo è volto a realizzare azioni integrate di informazione e di comunicazione di rafforzamento della capacità amministrativa della pubblica amministrazione locale dei comuni in particolare visti come promotori e di sviluppo della domanda pubblica di servizi di connettività ultraveloce legandosi ad altri importanti progetti di ammodernamento e efficientamento del sistema Paese come ad esempio il Sistema Federato delle Infrastrutture il Catastro Nazionale delle Infrastrutture che rappresenta una novità importante del Piano Nazionale Banda Ultralarga destinato a raccogliere tutte le informazioni relative alle infrastrutture presenti sul territorio nel sottosuolo o nel soprassuolo e a consentire una riduzione dei tempi e dei costi di posa della fibra ottica e diciamo chi fra noi ha svolto il compito di amministratore o di operatore economico nel settore sa quanto sia importante costruire questo habitat nuovo di conoscenze per interventi che siano interventi pronti anche ben inseriti, accurati nell'inserimento parliamo quindi del mezzo fisico attraverso il quale correranno le informazioni sapendo che le infrastrutture condizionano le scelte tecnologiche che devono essere come recita la strategia italiana per la banda ultralarga a prova di futuro e dunque richiedono investimenti ingenti su tempi lunghi con scelte strategiche rigide e spesso immodificabili che quindi devono essere scelte ben mirate, ben calibrate per la piena riuscita della strategia c'è bisogno del protagonismo di tutti delle imprese e della pubblica amministrazione in tutte le sue articolazioni quindi centrale e come nel caso del nostro progetto periferica in questo caso parliamo dei comuni delle aree cosiddette bianche ovvero affallimento di mercato come si dice aree dove gli operatori privati non sono disposti a intervenire a investire ma che interessano circa 13 milioni di cittadini e riguardano circa 7.400 comuni in tutto il nostro paese noi come sapete ragioniamo anche di una razionalizzazione del sistema dei comuni che sarebbe necessaria anche tramite fusioni ma anche se si facessero rapidamente delle fusioni di comuni il numero degli enti protagonisti di un processo di modernizzazione essenziale per il futuro del paese è un numero davvero davvero importante quindi è anche un cimento difficile avere la capacità di azione di legame di coordinamento dei comuni per svolgere una sensibilizzazione che porti poi ad un incremento di domanda a un'iniziativa uno sviluppo quello dei servizi digitali che non può essere limitato solo a quelle che gli operatori delle telecomunicazioni considerano come aree di mercato nella sanità come nella scuola nel settore manifatturiero che non è concentrato in poche aree ma in un paese multipolare come il nostro è diffuso anche in molte aree bianche la pubblica amministrazione deve essere in grado di raggiungere tutti i cittadini e tutte le imprese gli stessi luoghi del turismo e della cultura così numerosi e diffusi non hanno oggi una a disposizione una connettività adeguata quindi per esempio beni culturali e turismo è un campo dove si può sviluppare un'azione molto forte dove sicuramente c'è una prospettiva di crescita ma poi naturalmente ci sono tutti gli altri campi l'offerta web il telelavoro la telemedicina l'uso delle teleconferenze soprattutto laddove i territori sono decentrati lontani dai dai centri motori più attivi in generale nuove potenzialità di servizio e una visione direi del tutto nuova sulla quale dobbiamo applicarci a fondo lo dico anche qui per lanci perché poi coordino anche per lanci il settore dell'innovazione applicarci con una capacità di visione del futuro che ancora oggi non abbiamo saputo dimostrare risolvendo dispersioni disattenzioni che ci sono quindi noi cercheremo di farlo anche con questo progetto attraverso azioni mirate di formazione di informazione e assistenza amministrativa con l'obiettivo di rendere i comuni interessati pienamente partecipi della transizione verso uno scenario di piena digitalizzazione del sistema paese e capaci di crescere coinvolgendo dal basso il maggior numero possibile di cittadini e imprese quindi si va da un tema di alfabetizzazione digitale di riduzione della differenza delle divisioni delle distinzioni che impoveriscono il nostro paese a la capacità di offrire una infrastruttura e sistemi di comunicazione che diano un vantaggio competitivo alle imprese anche al tessuto della piccola impresa diffusa il progetto quindi è funzionale agli interventi operativi dei concessionari Open Fiber e alle Fiber e alle strutture operative pubbliche Infratel che ascolteremo poi introdurre la loro la loro missione i comuni devono essere parte attiva e sensibile di un obiettivo destinato a superare un gap che riguarda le grandi scelte infrastrutturali del paese la banda ultralarga sarà infatti la nervatura vitale del nostro futuro e dell'intero sistema paese lo ripeto l'asset principale su cui non solo costruire la competitività del paese nello scenario globale e il posizionamento in esso delle grandi aree urbane e metropolitane ma anche la possibilità di una crescita diffusa equilibrata del territorio e delle opportunità che adesso si offrono di accesso ai mercati quindi uno strumento destinato come ho detto ad accorciare le distanze a rendere le barriere fisiche meno influenti nel frenare la crescita a valorizzare eccellenze e ricchezza dei nostri territori a promuovere nuove economie ad alta integrazione di conoscenza e sostenibili il capitale sociale su cui abbiamo costruito un modello produttivo diffuso unico anche in Europa che può e deve evolvere per esempio la possibilità di offrire ad aziende di servizi che aiutino l'internazionalizzazione della piccola e media impresa l'integrazione di servizi professionali di diversa natura la capacità di progettazione di concorso laddove è possibile a bandi europei o comunque a misure di sostegno all'economia ecco tutto ciò che vivendo nei territori sappiamo che non è affatto scontato tutto ciò che va sostenuto e rafforzato sostenendo trasformazioni che ora sono urgenti più che necessarie a far fronte ad una concorrenza sempre più aggressiva anche di paesi che rispetto all'Italia sono entrati nell'unione con dei pesanti handicap e che però hanno fatto importanti investimenti hanno innovato anche la struttura pubblica e dunque anche di offrire opportunità di sviluppo e di crescita al mezzogiorno in particolare spingendo con questi sistemi le grandi potenzialità produttive che possiede nell'agroalimentare per esempio nei servizi al turismo nella produzione manifatturiera tipica ancora per alcune aree che aspettano un rilancio il paese dunque sta colmando un gap scommettendo sulle politiche per l'innovazione digitale per interpretare la rivoluzione digitale che stiamo vivendo e sulla connettività in banda ultralarga come condizione necessaria per lo sviluppo dal momento della sua approvazione nel marzo 2015 ad oggi si sono consumati diversi passaggi chiave dall'assegnazione delle risorse agli accordi con le regioni passando per le intese con la commissione dell'unione europea e all'espletamento infine dei primi bandi di gara ora ci apprestiamo alla fase realizzativa del piano in cui i soggetti vincitori dovranno ottenere i permessi necessari all'apertura dei cantieri sui territori e siglare i necessari accordi sapendo che verranno in qualche modo premiati proprio quei comuni che si troveranno pronti nel facilitare l'infrastrutturazione del proprio territorio che avranno insieme visione e capacità tecnica di portare avanti i progetti in sintesi l'idea che anche condivisa con la strategia del lanci e dell'unione delle province è quella di fare dell'Italia un paese più veloce meno burocratico e più moderno non solo non lasciando indietro nessuno ma facendo in modo che tutti facciano la propria parte e vorrei aggiungere che cresca una cultura digitale dell'innovazione diffusa sperando anche che si apra un accesso di nuove e giovani competenze nei comuni in particolare proprio nel campo dell'innovazione digitale superando assurde limitazioni all'auto organizzazione che i comuni hanno subito come vessazione che ha fatto e sta facendo gravissimi danni perché l'invecchiamento anche anagrafico del personale la difficoltà di innestare forze nuove crea un limite anche la possibilità di avvalersi di servizi che si trovano poi sul mercato ovviamente non tutto può essere portato dentro ai comuni ma a volte non c'è nemmeno l'esperienza la capacità o ci sono discontinuità amministrative anche laddove si è imposta una volontà politica iniziale che frenano un percorso quindi superando ripeto assurde limitazioni all'auto organizzazione e uniformità anacronistiche perché è chiaro che ci sono dei settori di sviluppo della capacità delle strutture anche in termini di investimento del personale che hanno una priorità non tutto può essere messo sullo stesso piano quindi servono corsie scelte selettive corsie preferenziali e non ciechi blocchi di prospettiva quali abbiamo vissuto fino ad oggi questo è il senso del progetto che avanziamo è significativo che a portarlo avanti sia un'associazione come Lega Autonomie un'associazione delle autonomie locali che offre alla strategia della banda ultralarga la sua sensibilità istituzionale di radicamento e di dialogo con il proprio mondo di riferimento e lo vorrei sottolineare anche una strategia di potenziamento nella capacità di offrire servizi quindi di prestarsi da dentro il sistema dei comuni a creare quelle accelerazioni che ho cercato di spiegare quindi riassumendo e concludendo nell'arco triennale di svolgimento del progetto che ora viene meglio illustrato svolgeremo un ruolo di facilitatori di formazione e informazione di promozione dell'efficienza amministrativa di raccordo con i comuni nel sostenere la consapevolezza della partita in gioco e anche di stimolazione politica perché si facciano quelle riforme quelle riforme così attese dai sindaci dagli amministratori che creino la possibilità di portare avanti i progetti mettendo insieme i comuni quindi superando la parcellizzazione e la divisione ma avendo anche delle competenze di riferimento è un compito sfidante ma credo che con la collaborazione degli altri attori coinvolti e con la sensibilità dei sindaci e degli amministratori locali lo svolgeremo con successo grazie